Il bosco è il luogo più appropriato per parlare dell'attacco di panico. Perché? Perché il termine panico deriva dal dio mitologico Panna e capire chi è Panna ci permette di capire cosa vuole da noi l'attacco di panico. Panna è il dio dei boschi, è il dio della natura selvaggia, impervia, pericolosa ed è rappresentato metà uomo e metà animale. E questo ci dice che anche dentro di noi esistono questi due lati. Un lato razionale, debutato al controllo, al ragionamento, ma abbiamo anche un lato irrazionale, impulsivo. E allora cosa accade? Accade che quando noi lavoriamo troppo sul piano razionale, quando controlliamo troppo le nostre emozioni, le scatta l'attacco di panico che ci dice, guarda che hai anche un lato istintivo che devi esprimere e che forse hai tenuto soffocato per troppo tempo. Non a caso, Panna è spesso raffigurato mentre rincorre le ninfe, mentre insegue le ninfe. E se ci facciamo caso, quando abbiamo un attacco di panico, ci sentiamo il cuore che batte all'impazzata, il respiro affannato, come se realmente stessimo sfuggendo da qualcuno. Da Panna, appunto. Cioè, dal nostro lato istintivo. Cioè, dal nostro lato più spontaneo. Ecco perché stare nei boschi o fare le sedute psicologiche nel bosco è il modo migliore per iniziare ad affrontare l'attacco di panico.